Una donna era devotissima di Padre Pio e tutte le sere, ma tutte e tutte le sere, si metteva a pregare in ginocchiata davanti all'immagine del frate di Pietrelcina e al termine della preghiera, per dormire tranquilla, domandava la benedizione di Padre Pio. Suo marito era anche lui molto, molto, molto devuto a Padre Pio, ma non riusciva comunque a trattenersi dal ridere vedendo la moglie in tutta quella che lui trovava esagerata a devozione, mentre che aveva in ginocchiata la benedizione tutte le sere a Padre Pio. Finalmente riuscirono ad andare a San Giovanni Rotondo e a incontrare Padre Pio. Quando il marito fu davanti a Padre Pio, lo guardò e sorridendo disse «Padre, sapete una cosa? Mia moglie vi domanda la benedizione tutte le sere». E Padre Pio guardando e sorridendo rispose «sì, sì, lo so bene, e tu invece ridi». Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.